Buongiorno a tutti gli amici di YouTube, eccoci qui sul pomeriggio del finale dell'Europa League. Quest'anno si vuol dire veramente che l'Europa League è il fratellino del Champions League, perché entrambi Benfica e il Chelsea prima giocavano nei gironi del Champions League l'anno scorso, ma non sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi, quindi si trovano in questo Europa League. Ma chi vincerà stasera? Per quanto riguarda le quote 1x2 della partita, vediamo Chelsea favorito a 2.35, con il pareggio a 3.25 e Benfica a 2.90. E anche se la squadra inglese è favorita, non c'è un flusso senso unico dei soldi. Chelsea è la squadra più giocata, ma vediamo anche interessanti soldi sul pareggio e su Benfica. Per chi crede che compone la storia, è interessante di vedere che Benfica ha partecipato in nove finali europei, ma purtroppo i tifosi portoghesi ha perso gli ultimi sei. L'ultimo trionfo nella Coppa Europea è nella Coppa di Europa in 1962 contro il Real Madrid, che questo è giocato anche a Amsterdam, quindi per chi crede in questa coincidenza, la quota per Benfica di vincere l'Europa League è 2.20, con Chelsea favorito nella scommessa Coppa in mano, quotato a 1.60. Ma quanti gol ci saranno in questa partita? Vediamo Ander Favorito, cioè saranno secondo le quote in meno 2 gol o meno, che è quotato 1.73, con Ova 1.95. Ma per quanto riguarda la scommessa del risultato esatto? Qui i nostri scommettitori stanno tentando la fortuna sulle quote che vengono almeno 3 gol. Per esempio il 2.1 per Chelsea, che è quotato a 8.50, o anche il 3.1, che è quotato a 18. Mentre per chi viene il vettore degli aquile portughesi, la scelta dei scommettitori è il 2.1, che è quotato a 11. Ma chi segnare il primo gol? Ricordiamo che per Chelsea Bà non può giocare in questa partita, perché ha già giocato per Newcastle in questo torneo. Quindi toccherà a Torres di giocare in avanti stasera, è un favorito a 6.50 per segnare il primo gol. Ma i nostri scommettitori non stanno molto affezionati di questa quota di Torres, stanno puntando più su Frank Lampard, quotato a 10, o Juan Mata anche a 10. Cardoso per Benfica non ha giocato domenica scorso contro Porto, è stato squalificato. Quindi per chi crede che sarà un bel carico pocato in campo stasera, la sua quota è 7.50 per segnare il primo gol. Infatti questa è la scelta dei nostri scommettitori che hanno tentato la fortuna sul primo gol segnato da Benfica. Una scommessa interessante potrebbe essere la modalità di vittoria. Se ricordiamo Tino, Chelsea l'anno scorso nel Champions League ha vinto dopo rigore. La quota per Chelsea vincere la Coppa oggi dopo i calci di rigore è 9. E 9 è anche la quota per Chelsea che vince in tempo più supplementare. Ma per chi vede magari un pareggio dopo un 90 minuti e poi un eventuale trionfo della squadra portoghese, Benfica per vincere dopo tempi supplementari è quotato a 10, per una vittoria portoghese dopo rigore è 9. Belle quota e belle alti per chi vede tempi supplementari e un rientro a letto le tardi stasera. Per ora di tutto, so che siete tutti un po' stufi del mio vedere questo cicciotello brutto incoerente inglese davanti alla telecamera. Volevo dirvi che Venedì c'è una novità perché arriveranno delle gente più belle, più cognate di me per parlare delle quote del weekend di Serie B. No, Serie A, scusate, Serie A. Vedrete magari di là i capelli di Nicola. Fortemente innanzitamente per voi e qualche fanciulla che sta guardando, Venedì vedrete la sua faccia. Che bello. Ora vi lascio in pace e ci vediamo in compagnia a Venedì. Grazie.